Spesa più oculata e utilizzo degli avanzi per una cucina antispreco. In Liguria vanno riscoperti il piccatiglio e le tomarselle per cercare di ridurre ulteriormente lo spreco alimentare domestico che nel 2019 è diminuito a livello nazionale del 25%, ma nonostante la maggiore attenzione al problema finiscono ancora nella spazzatura a famiglia alimenti per un valore di 4,90 euro la settimana per un totale di 6,5 miliardi, cifra che sale notevolmente se si considera l'intera filiera dai campi alla ristorazione. È quanto commenta Coldiretti Liguria in merito all'indagine di Coldiretti X contro lo spreco alimentare dalla quale emerge che oltre la metà degli italiani, il 54%, ha diminuito o annullato gli sprechi alimentari adottando strategie che vanno da ritorno in cucina degli avanzi a una maggiore attenzione alla data di scadenza fino alla spesa a chilometro zero, mentre quasi 4 italiani su 10, il 38%, hanno invece lasciato invariato il loro livello di spreco, mentre il 5% lo ha addirittura aumentato, nonostante la forte sensibilizzazione sul tema che ormai coinvolge la società a tutti i livelli.